Sono qua in Solidworks e voglio aprire adesso un file del Panzer 6, del Tigre 2, il Tigre Reale, come lo chiamavano gli inglesi, o anche King, Re Tigre. Ok, voglio aprirlo, però adesso attivo via Scan23D, dunque strumenti, aggiunte, ok, e vado a attivare via Scan23D, ok, voglio aprirlo con l'importatore, quello standard. Dunque vado a fare file, apri, ok, vado, l'ho già fatto con, sono già riuscito, comunque vado a prendere l'obj, ok, opzioni, vediamo se è quello standard. Opzioni, opzioni, altissima, ok, corpo solido, ok, non faccio unisci, lascio, ok, e vado, ok, apri, apri, ok, e adesso vediamo, dovrebbe farcela, comunque ci metterà un bel po', e dopo intanto lo faccio andare, e poi lo ridurrò, ridurrò il tempo. Dunque siamo a 10.43. Ok. Qua mi ha messo questo, il modello mesh ha 143.576 sfaccettature, aprirlo potrebbe richiedere un po' di tempo, ok, lui non ha dato neanche l'ok, è partito, adesso vediamo quanto ci mette, ecco. Allora, qui mi dice, il modello di mesh può essere importato solo come corpo di superficie, non come corpo solido, ok, gli dico, sono passati 42 minuti, ok, e vediamo se dice ok, ah, no, neanche senza schiacciare, ha preso e ha fatto, eccolo qua, dopo 40, ok, schiaccio, ok, mi ha costruito le varie superfici e anche però le parti, eccolo qua, se io vado giù, se salvo siamo attorno a 57 mega, 58 mega, però è fatto bene, gira benissimo, ok, ecco, è un Panzer Tigre 2, fatto bene, ho fatto molto bene, ho tutte queste importato anche, naturalmente non ho fatto l'unione dei solidi, ok, vediamo se si vedono, intanto metto in questo, così, ok, e importato, vediamo dove si, eccolo qua, questo per esempio, era questo qua, ci sono anche tutte queste lavorazioni qui, vabbè, niente, ecco, più di 40 minuti, naturalmente dipende anche dal computer che ho, nel senso che comincia a essere datato per queste cose qua il mio computer ha un i7 serie 4 cioè si un i7 4k però comunque va bene ok molto bello fatto bene per chi vuole poi stampare in 3d perfetto va bene ok comunque questa volta ha funzionato molto bene un po lungo ripeto oltre 40 minuti ci vediamo la prossima arrivederci